La temperatura bassa e il forte vento durante la seduta del mattino non ha scoraggiato i numerosi tifosi viola presenti anche alla seduta pomeridiana. I ragazzi di Mr. Mihailovic, dopo un simpatico torello alternativo, hanno svolto sul campo sotto gli occhi del vicepresidente Mario Cognini, presente in ritiro per stare vicino a staff e squadra, esercizi specifici sul fuorigioco e sugli inserimenti dei due esterni con pressione alta sul portatore, il tutto con massimo due tocchi. A chiusura di allenamento non è mancato il tempo per provare le conclusioni in porta. Grazie